In veste una donna e scappe, lei muore sul colpo. La tragedia è avvenuta lungo la statale adriatica Lido di Fermo. Si tratta di una cinquantenne che dopo l'impatto con l'auto ha riportato traumi gravissimi che purtroppo non le hanno lasciato scampo. I militari dell'arma, oltre alle testimonianze raccolte, stanno acquisendo le registrazioni della videosorveglianza pubblica per dare un volto e un nome alla persona che è scappata dopo l'investimento mortale.